La Corte dei Conti boccia il Comune sotto accusa il rendiconto di bilancio 2014 sotto i riflettori la lotta blanda all'evasione. I topi di Bari Vecchia e il nostro live con i residenti che denunciano il degrado nel borgo antico. La dislessia non è un ostacolo alla vigilia di un grande incontro nazionale sul tema ne parliamo nel nostro focus con una professionista locale. Il mago delle Ferrari la nostra intervista Peter Iurilli meccanico originario di Castellana ci racconta come faceva volare i bolidi delle star hollywoodiane. Buonasera in diretta dalla redazione di Tele Bari saremo come sempre in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. La sanità in primo piano continua ancora a far discutere il bando lampo per la costruzione dell'ospedale di Monopoli. Ricordiamo che Lancia e Bari e Batta ha espresso delle perplessità chiedendo una proroga dei termini fissati per il 23 ottobre prossimo. Sentiamo. Un nuovo ospedale per Monopoli da 98 milioni di euro, un bando lampo con scadenza da appena 20 giorni e i dubbi sulla legittimità avanzati dall'associazione dei costruttori. Il fatto, pochi giorni fa l'ASL Bari apre una gara per realizzare un nuovo nosocomio per il sud-est barese, una struttura da 300 posti letto che sostituirà il vecchio San Giacomo. Mancia e Bari Batta solleva la questione, i termini per presentare le offerte sarebbero troppo brevi considerata la complessità dell'appalto. La legge infatti prevede un termine minimo di 35 giorni con la possibilità di riduzione fino a 15 laddove sia stata messa a disposizione degli interessati un avviso di preinformazione. Documento che siamo riusciti a reperire, pubblicato solo sulla gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, ma non sull'albopretorio dell'azienda sanitaria locale. Alla sezione 1.3 leggiamo i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il portale www.sanita.puglia.it. Inutile dire che sfogliando il portale né di questo né di altri atti simili vi è traccia alcuna. Qui una documentazione peraltro frammentaria viene pubblicata solo quattro mesi dopo, il 4 ottobre, con l'indizione della gara breve anzidetta. Per trovare degli atti più dettagliati bisogna recarsi su un altro portale, Empuglia, mai citato nella preinformativa e su cui comunque non troviamo dopo la pubblicazione della preinformativa le carte materialmente necessarie a un'azienda seria per imbastire un'offerta. Ma non è tutto, solo ieri chiedevamo al direttore generale della SBA Vito Montanaro di conoscere a questo punto le imprese venute in qualche modo in possesso della documentazione in oggetto. Assolutamente no, ci siamo sentiti rispondere, sono atti endoprocedimentali. Eppure proprio sul sito Empuglia troviamo pubblicate aziende, dirigenti e impiegati che hanno chiesto di fare un sopralluogo sull'area interessata dai lavori, in violazione del principio generale di riservatezza che deve sovraintendere a tutte le fasi che precedono lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica. La domanda allora sorge spontanea, a che gioco si sta giocando con i soldi dei contribuenti? E andiamo avanti. La sentenza della Corte dei Conti sul rendiconto di gestione 2014 si abbatte violenta sul Palazzo di Città e le opposizioni richiamano sindaco e giunta alle proprie responsabilità. Sentiamo. Consigliere, arriva durissima la sentenza della Corte dei Conti. Sì, ancora una volta, anche per il 2014 la Corte ci dice che i conti del Comune di Bari non vanno affatto bene, abbiamo 20 milioni di fitti da recuperare da persone che abitano nelle abitazioni del Comune di Bari e non pagano, abbiamo 12 milioni di debiti fuori bilancio che ci fanno sforare un parametro di deficitarietà, abbiamo da rivedere le indicazioni delle città comunali per il contenimento dei costi del personale di funzionamento. Insomma, la Corte ci richiama fortemente alla legge. Nello specifico la Corte dei Conti, che si esprime sul rendiconto di gestione 2014, dichiara che costituiscono violazione di norme volte a garantire la regolarità della gestione e irregolarità che potrebbero pregiudicare anche in futuro gli equilibri economico-finanziari del Comune di Bari, la scarsa efficienza della lotta all'evasione tributaria, la scarsa movimentazione dei residui, la presenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante, l'errata contabilizzazione di voci tra servizi in conto terzi, il ritardo nella chiusura di procedure di liquidazione di società partecipate, la violazione, inoltre, dei parametri di deficitarietà strutturale. 60 i giorni di tempo per Palazzo di Città per presentare una credibile risposta agli ammonimenti della Corte dei Conti, ossia l'adozione di concrete misure correttive. In questa città i furbi continuano a farla franca, tagliano corto le opposizioni che dopo essere state messe al corrente soltanto ieri della sentenza pubblicata il 5 ottobre scorso richiamano le istituzioni alle proprie responsabilità politiche. De Caro, che è stato il delegato al traffico, è stato l'assessore, oggi diventa sindaco e la Corte dei Conti per la prima volta sentenze che anche nel periodo in cui lui è stato sindaco, i conti non vanno bene, vi sono dei debiti fuori bilancio, si dimostra in maniera plastica che molte persone non pagano la tassa su rifiuti, l'Imu, cioè quindi non si è fatta un'adeguata lotta all'evasione. Bari di nuovo allagata dopo la pioggia di questa notte, brutto risveglio per i cittadini che questa mattina hanno dovuto attraversare strade sotto passi allagati, come quello di via Quintino Sella, come potete vedere nelle immagini, una ragazza in bicicletta ha difficoltà ad attraversare il tratto di strada. Diversi disagi anche nelle due sedi del Tribunale, quello civile di Piazza De Nicola, allagato all'ingresso, e quello penale di via Nazarianza, dove in un garage sotterraneo si sono accumulati quasi 20 centimetri di acqua. Ogni giorno è la stessa storia, questa è la denuncia che avevamo raccolto mercoledì 4 ottobre dai residenti di Piazza Federico II di Svevia a Barivecchia, a distanza di una settimana, il problema si è ripresentato, auto in sosta rigorosamente in doppia fila e bus della navetta ha nuovamente bloccato. Il video è stato registrato intorno alle 21 di ieri sera, inutile il tentativo dell'autista di richiamare l'attenzione dell'automobilista di turno a liberare il tratto di strada, ci hanno pensato i passanti spostando la macchina di peso. E noi andiamo proprio a Barivecchia con il nostro live, ci occuperemo di questo ma principalmente del degrado della città che ovviamente attirano i topi. L'inviata di questa sera per noi è Cristina Ferrigni. Cristina buonasera. Sì buonasera, io sono in via Arco della Neve, vedete qui alle mie spalle c'è proprio l'arco. Stavattina qui c'è stato il fuggi fuggi perché la strada era letteralmente invasa dai topi, qui abbiamo delle testimonianze, la signora che abita qui al basso. Come sono uscito da qui dentro, l'ho visto proprio di correre, era così qua, metà braccio, proprio grossa, come ha sentito di gridare, si è invilato dentro quel tubo. Voi avete cercato anche di catturarlo? Di catturarlo, ma col fuoco, col fuoco, col fuoco è uscito, vedi l'altra, vedi l'altra, l'altro giorno. Non solo stamattina c'erano anche dei turisti che passeggiavano qui a Barivecchia, quindi c'è stato veramente un gran fuggi fuggi. E allora, portavoce dei residenti, si è fatto Michele Fanelli, volto noto a Barivecchia, presidente dell'associazione, anche Dalfino che ha scritto anche una lettera con un appello all'amministrazione comunale. L'appello che noi chiediamo già da tempo è una grande deratizzazione, disinfestazione di tutta la città vecchia, perché purtroppo la questione dei turisti sta divenendo una questione drammatica. Non abbiamo mai riscontrato in passato una presenza così attiva dei topi. I topi invadono e in questo momento dove Barivecchia pullula dei turisti, stamattina è successo il purtroppo anche con i turisti. Non è bello presentare la nostra città in queste condizioni. Per capire dov'è l'origine del problema, noi lo chiederemo al vice sindaco di Bari, Pierluigi in trona, che ha avuto la gentilezza di accogliere il nostro invito e confrontarsi direttamente con i residenti di Barivecchia, ma questo lo facciamo tra poco Alessandra. Restituisco la linea allo studio. Grazie Cristina, noi andiamo avanti. Inaugurato con una grande festa, il chioschetto della legalità nel giardino Mimmo Bucci è chiuso dagli inizi di ottobre. Qual è il suo futuro? Ci chiediamo. Guardiamo. Due bandi andati deserti è un affidamento che in pochi sapevano essere temporaneo. Si è cantata vittoria troppo presto per il giardino Mimmo Bucci nel quartiere Libertà e per il chioschetto al suo interno. Chiuso per ben quattro anni e trasformato in presidio di legalità con il suo affidamento ai salesiani è di nuovo chiuso dall'inizio di ottobre. E l'affidamento Lampo, cui i tempi erano a quanto pare previsti, secondo molti mal si concilia con l'inaugurazione in pompa magna del bar e con le parole di eccessivo ottimismo del primo cittadino e del presidente della regione Puglia. Intanto si pensa ad un nuovo bando di concessione, modificato nella sua essenza per renderlo più appetibile, sperando si tratti della soluzione definitiva. Io sto studiando un nuovo bando, ma a me basterebbe anche una manifestazione di interesse con la quale coinvolgere i barristi o chi ha attività commerciali già consolidate nel settore di bar o piccola ristorazione per creare in questo chioschetto un satellite di un'attività già esistente con un accordo però che terrà dentro anche i salesiani. L'accordo sarebbe, noi vi diamo questo spazio, che comunque è uno spazio commercialmente utilizzabile d'estate e che può rendere, minimamente rendere, però voi mi fate attività in uno con il programma organizzato con i salesiani. E parliamo di aeroporti. L'Enac rilascia il nuovo certificato sulla sicurezza riservato agli scali che rispettano standard di eccellenza. Rispondenza alle procedure operative, adeguatezza degli impianti e conformità alle norme comunitarie. Sono i requisiti posti alla base della nuova certificazione rilasciata dall'Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti. Un documento consegnato formalmente per Bari Brindisi e Taranto Grottaglie dal direttore centrale per la vigilanza dell'ente nazionale Roberto Vergari ma che di fatto è un riconoscimento degli standard organizzativi di sicurezza e qualità della rete aeroportuale pugliese. Un risultato ottenuto, sottolineano i vertici di ADP, grazie all'impegno delle tante persone che hanno gestito il processo di qualificazione e che ogni giorno si impegnano per la crescita di collegamenti e traffico. In attesa che con il piano strategico per lo sviluppo degli aeroporti si provveda a modificare la destinazione di alcuni degli scali pugliesi. Su tutti, per esempio, quello di Taranto Grottaglie, un processo registrato dallo stesso Vergari di Enac. La sicurezza, gli aeroporti erano sicuri e continuano ad essere sicuri. Cambierà molto rispetto a quelle che sono le responsabilità della società di gestione che si è dotata di un'organizzazione legata a garantire ancora di più l'efficienza degli aeroporti. La procura di Bari e cambiamo argomento ha chiuso le indagini sulla vicenda della neonata morta all'ospedale di Venere e di Carbonare il 2 maggio del 2016 a causa di un ritardo nel parto cesareo dovuto, secondo l'accusa, ad un litigio tra medici per l'utilizzo della sala operatoria. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a 5 medici, 2 primari dei reparti di chirurgia generale e anestesia, 2 ginecologi e un altro anestesista. è stata contestualmente chiesta l'archiviazione per altre 6 persone tra medici e infermieri dell'equip del reparto di ostetricia e ginecologia che avevano avuto in cura la madre nei giorni precedenti il parto e durante la successiva operazione, i quali non avrebbero avuto in alcun ruolo nella decisione di ritardare l'intervento. Nei confronti dei 5 medici tuttora indagati, la procura ipotizza il reato di omicidio colposo. In macchina ascolto ancora il rombo delle vecchie Ferrari. Quelle nuove sono un'altra storia. Si è raccontato così Peter Iurilli, meccanico dei divi di Hollywood, che ieri sera ha incontrato il pubblico al Multicinema Galleria. Ascoltiamo. Da Castellana a Hollywood, Peter Iurilli la chiamano il meccanico delle star di Hollywood. Eh sì, stavano tutti là. Io ho voluto andare dove ci stavano le Ferrari e questi personaggi e sono arrivato là. La prima persona che ho conosciuto è stato Paul Newman. Siamo rimasti fratelli. Quali sono i ricordi più belli che ha di quegli anni, se dovesse ricordare un momento? È sempre Paul Newman. Una volta mi disse che aveva un appuntamento con una personaggio importante. Avevo insegnato a lui il movimento italiano. Mi disse, guardò dove stava e dice, vieni qua. Andai là, mi presentò l'amico. Non capì chi fosse. Mi fece tante domande sulla macchina che avevo preparato. Quando venne Paul, lui se ne andò, disse, ma chi è questo? Sei chi era? L'astronauta Armstrong. Lui faceva domande a me quando avrei voluto fare la domanda a lui. Un'ultima invece domanda che le faccio io. Sentire il rombo della Ferrari tutt'oggi le provoca emozioni? Oggi no. C'è un cd nella macchina, ogni tanto lo metto, i 12 cilindri, cantano. E allora noi ci fermiamo. Pausa pubblicitaria, rientro e commenteremo i principali fatti di questa giornata con il caporedattore di Repubblica Bari, Domenico Castellaneta. Restate con noi. Ed eccoci ancora qui in diretta pronti per commentare i principali fatti di questa giornata. Ad accompagnarci oggi il caporedattore di Repubblica Bari, Domenico Castellaneta. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora, andiamo subito al nostro live. Oggi siamo in diretta da Barivecchia dove ci segnalano degrado e ovviamente la presenza dei topi. Insomma, una convivenza non proprio facile. Allora, Cristina, torno a te. Sì, buonasera, Alessandra. Ci siamo spostati di qualche metro più avanti, siamo sotto l'arco della neve dove stamattina si è verificata l'invasione di topi che sono usciti dalle fogne. Qui il topo è stato catturato dagli stessi residenti e l'hanno bloccato, l'hanno catturato in questa grata. E abbiamo anche una testimonianza video, un video amatoriale naturalmente di una delle residenti di questa strada. Vediamo se il cameraman Gianluigi Maggi è in grado, sì, di farci vedere le immagini dal telefonino. Prego. Ecco, lo vediamo. Non so se siete in grado di vedere bene in tv. C'è questo topolino che ovviamente cammina qui a bordo della strada. Ed è lo stesso topo che probabilmente è stato catturato, no? Era più grosso il topo stamattina, né era il topolino, era almeno il topolone. Allora, Michele Fanelli ci conferma che stamattina c'erano anche i turisti in questa strada e quindi sono scappati per paura. Oggi è mercoledì, il mercoledì arriva una nave, una nave scena veramente tanta tanta gente. Ma io concludo col dire, noi abbiamo chiesto più volte, ora lo dico davanti al vice sindaco, una deratizzazione, una disinvestazione, un lavaggio delle strada. La città è vecchia, oggi sta vivendo, grazie a Dio, un momento bello. E la dobbiamo presentare, è il salotto buono della città. E noi seduta stante abbiamo la risposta del vice sindaco Pierluigi Introna. Buonasera a tutti, intanto a chi in studio e ai signori presenti. Intanto ringrazio i cittadini che sono intervenuti con sprezzo del pericolo oggi e hanno ucciso un topo, l'hanno bruciato vivo, quindi sono riusciti ad averne ragione. Dopodiché io dico quello che sta facendo e che ha fatto il Comune. Oggi è già venuta l'Acquedotto Pugliese, una squadra dell'Acquedotto Pugliese, a fare una verifica di tutti i pozzetti di sua competenza. Domani lo stesso Acquedotto farà una massiccia operazione di deratizzazione e deblattizzazione in tutta la zona. Lo stesso farà il Comune di Bari fra 48 ore per i pozzetti di nostra competenza. A questo devo aggiungere che il nuovo Presidente Amiu ha avviato un tavolo di concertazione con l'Acquedotto Pugliese proprio venerdì scorso, utile a creare un protocollo d'intesa tra Acquedotto e Amiu. E probabilmente ci sarà anche il coinvolgimento della sovrintendenza perché i tombini con il piano Umurban sono stati in gran parte della città vecchia tombati con le basole di pietra e quindi non si possono spaccare ed è un problema. Questa attività servirà a meglio finalizzare i nostri interventi di deratizzazione e deblattizzazione e soprattutto a essere più efficaci, visto che è considerato che Acquedotto Pugliese, oltre ad avere la gran parte della gestione della rete, ha anche le capacità tecniche interne per poter affrontare questi fenomeni. Quindi l'intervento del Comune è immediato, ma noi speriamo sia risolutivo? Risolutivo non potrà essere, nel senso che con cadenza, credo, biannuale, la deratizzazione e la deblattizzazione soprattutto vanno fatte. Io devo aggiungere però che adesso è sul mio tavolo un problema che riguarda soprattutto le blatte, oltre che i topi, ed è quello che Barivecchia, più di altre parti della città, ha molti appartamenti chiusi dove non vive nessuno, io non dico abbandonati, c'è ancora un diritto di proprietà, però non ci vive nessuno. E invece sarebbe utile aprirli con un progetto, magari con la collaborazione però di tutti, perché sicuramente gran parte degli insetti e molti topi potrebbero svilupparsi e dimorare in questi luoghi chiusi al pubblico. Bene, grazie al Vice Sindaco Pierluigi Introna, per aver citato questa risposta qui immediata. Alessandra, non so se avete domande da studio, altrimenti restituisco la linea allo studio. Grazie Cristina, magari ci risentiamo nel prossimo collegamento. Insomma la convivenza con topi e blatte non è molto semplice, c'è da dire anche che le condizioni di degrado, magari anche di scarsa pulizia, costituiscono un terreno fertile, no? Sì, ci sono tanti problemi, nel senso che io lancio un appello non al tavolo di concertazione, nel senso che basta, quando si vuole insabbiare qualcosa, quando non si vuole risolvere un problema, si fa il tavolo di concertazione, questa è una roba degli anni 70, quindi inviterei il Vice Sindaco, che anche lui con sprezzo del pericolo è adesso sul posto, a evitare il tavolo di concertazione. L'acquedotto deve fare il suo dovere, quindi deve fare la manutenzione delle fogne, che evidentemente non è stata fatta adeguatamente. Secondo, quando sono stati fatti i lavori per il rifacimento della pavimentazione a Barivecchia, potevate pensarci prima che le grate non si riuscivano a sollevare, che là ci sarebbe stato sicuramente un problema. Terzo, il Comune di Bari fa un'ordinanza molto efficace, tutti i condomini oggi a Bari sono obbligati a fare la deblattizzazione e a consegnare, addirittura a spedire al comando dei vigili urbani la relativa documentazione. Lo fanno i privati, non vedo perché lo possa fare il Comune o l'acquedotto pugliese nel caso specifico. Farlo in maniera biennale mi sembra assolutamente poco convincente, va fatto in maniera semestrale, comunque credo che l'Università di Bari abbia dei valenti esperti e quindi non si può fare il tavolo di concertazione dopo che escono i topi. Stamattina le immagini di quei topi le hanno viste sulla rete ovviamente tutti quanti, non so se hanno fatto già il giro del mondo, sono le stesse strade dove a maggio passeggiavano Draghi, la IEL, i ministri di tutto il mondo. Quindi evitiamo il tavolo di concertazione, sono sicuramente convinto che la Giunta Comunale, il Vice Sindaco, il Sindaco, siano animati da buona volontà, però questi accordi con l'acquedotto pugliese non si fanno quando i topi vanno in giro per le strade frequentate da bambini, si fanno prima, ognuno deve fare il suo dovere, qualcuno nel caso specifico probabilmente o non l'ha fatto o l'ha fatto male. Non sono indubbiamente una bella cartolina per Bari, se consideriamo che poi Bari Vecchia è la prima porta all'ingresso della città per tutto il movimento turistico, se pensiamo anche alla curiosità morbosa come avete scritto voi oggi su Repubblica dei Pugliesi, insomma rischiamo di allontanare quel turismo. Non si può vedere una scena del genere, le immagini che hanno fatto il giro stamattina dei social network di tutti i siti non si possono guardare, soprattutto perché effettivamente, come ricordava credo prima il signor Fanelli, oggi arrivano i croceristi, ma indipendentemente dei croceristi, anzi facciamo finta che non ci sono i croceristi, è obbligatorio da parte di un'amministrazione comunale garantire l'igiene e la salvaguardia delle strade per i cittadini che ci abitano, anche perché quei cittadini immagino che paghino tutti i latari, a proposito degli stabili abbandonati, loro sono il comune, non se la possono cavare facendo l'appello aprite le case e pulitele, mandate i vigili, la legge vi fornisce le possibilità per intervenire con la forza, sappiamo tutti che laddove spazi e chiusi e aperti non sono mantenuti con decoro, comunque non sono compatibili con l'igiene pubblica, il comune ha i vigili che possono intervenire, che possono sanzionare, ecco è giusto occuparsi dei cani che fanno i loro bisognini per strada, però ci sono stabili abbandonati, utilizziamo i vigili anche per andare a controllare chi sono i proprietari e perché non puliscono. E allora passiamo sempre in tema di politica cittadina, che oggi è stata come dire tirata per le orecchie dalla Corte dei Conti, che è in qualche modo puntato l'indice contro la lotta all'evasione del comune di Bari troppo blanda, ci sono ancora 20 milioni che mancano al pello, 12 milioni di euro di debiti fuori di bilancio, adesso il palazzo di città avrà 60 giorni di tempo per riportare dei correttivi rispetto ai rilievi della Corte dei Conti. Sì ma ci vuole la Corte dei Conti che ti dice che tu praticamente non ti fai pagare le tasse e quando ci sono le tasse non pagate tu non sei in grado, tu comune, di avere i soldi di farti pagare, non solo, ci sono affitti non riscossi, ci sono gli affitti delle case popolari che non sono stati mai riscossi, parliamo di canoni assolutamente popolari e comunque la legge e i regolamenti comunali prevedono che laddove ci siano casi di reale e comprovata e abissale indigenza ci sia l'esonero totale. Ecco tutte queste cose non si può aspettare che sia la Corte dei Conti a dirtele, hai la possibilità di farlo, 20 milioni è una cifra spaventosa, praticamente soltanto lo 0,6-0,7% dei tributi, delle tasse non pagate sono recuperate nel corso dell'anno, la percentuale sale credo se non ricordo male fino al 30% durante l'anno. I problemi sono due, o li lasciamo fare, o facciamo finta che stiamo scherzando, che pagano soltanto quelli che qualcuno può considerare fessi o comunque onesti, oppure forniamo agli uffici comunali gli strumenti per controllare e soprattutto per fare in modo che chi deve versare i soldi che deve lo faccia immediatamente, anche in questo caso chi non lo fa? Ci sono delle armi che la legge consente, a me stupisce che questi disservizi poi abbiano, non c'è nulla di politica, loro devono fare il loro lavoro, che è quello di amministrare la città, la legge fornisce loro degli strumenti di utilizzo. E allora, in qualche modo ci colleghiamo perché le notizie di cui abbiamo appena parlato sono quelle che poi creano una certa disaffezione nei confronti della politica, una certa sfiducia, il quadro è emerso anche nel sondaggio commissionato da Lanci in occasione della 34esima Assemblea annuale che si è tenuta questa mattina, i sindaci tengono ancora, c'è ancora un rapporto di fiducia tra cittadini e sindaci, però siamo a percentuali molto basse perché evidentemente la politica ha creato uno scollamento con i cittadini. Sì, anche se sono l'unica rappresentanza oggi realmente vicina al territorio, anche perché molto spesso e in moltissime situazioni, soprattutto in comuni, non parliamo delle città metropolitane come può essere Bari o altre grandi città, ma parliamo di comuni delle varie province, i sindaci non sono espressioni di un partito, addirittura troviamo sindaci di coalizioni talmente eterogenea che farebbero inorridire qualsiasi politologo, i sindaci spesso sono espressioni anche di movimenti civici, di liste civiche, di associazioni, di comitati di quartiere, quindi i sindaci rappresentano oggi il reale collegamento con il territorio. Questo vuol dire che bisogna fornire anche loro degli strumenti adatti a governare, perché è inevitabile che molto spesso un'amministrazione comunale non possa fare ciò che vuol fare, perché dipende molto da un filo diretto del finanziamento, che non è sempre soltanto statale, anzi nella grande maggioranza dei casi, soprattutto in determinate situazioni riguardanti servizi di pubblica utilità, quali ad esempio i trasporti, sono legati a doppio filo con ciò che gli passa alla Regione. Molto spesso il collegamento salta, molto spesso non c'è questa sorta di sinergia e quindi le amministrazioni si ritrovano senza poter far nulla. La percentuale credo che sia destinata a crescere anche perché credo che scenderà notevolmente la fiducia nei confronti delle Regioni, parlo naturalmente in linea generale, che ormai hanno raggiunto dimensioni talmente grandi da non poter oggi corrispondere alle aspettative dei cittadini. E questa percentuale cresce ancora di più se si parla dei parlamentari, con i quali i cittadini non si riconoscono affatto ed è proprio in questi giorni c'è la discussione sul Rosatello Unvisso, insomma una discussione che probabilmente non accende il dibattito tra i cittadini, non li appassiona, eppure ricordiamo che sarà il sistema elettorale che deciderà chi ci governerà, chi governerà questo Paese. Sì, ma è un sistema talmente fatto su misura, nel senso che non cambia, tutto cambia perché nulla cambia e senza scomodare il principe di Salina il problema è che in questo caso ci saranno come ancora ci sono i nominati e quindi la gente pensa, è giusto ma è così, è normale, che chi sta in Parlamento oggi non rappresenta i cittadini ma rappresenta semplicemente le indicazioni dei partiti. Tutto questo è inaccettabile, però ovviamente siccome le leggi le fanno loro, se le fanno su misura, questo mi sembra chiaro. E allora torniamo al nostro live, anche perché secondo questo sondaggio in cima agli interessi dei cittadini ci sono due settori che sono trasporto e ambiente. Allora torniamo al nostro live in diretta da Bari Vecchia con la nostra Cristina. Cristina, vengo da te. Sì, adesso ci troviamo in piazza dell'Odegitria davanti alla cattedrale di Bari e siamo davanti al bar l'unico della piazza che naturalmente accoglie i turisti e stamattina anche il bar è stato invasso dai topi. Sì, non è il primo caso che succede. Da domenica questo è il quarto che noi purtroppo ammazziamo qui per le strade. Uno sotto gli scalini, l'altro a pochi metri da me. Immagina che c'erano dei turisti che si sono anche spaventati. Stavano prendendo un aperitivo e hanno visto gridare urla di gente che accorreva dietro questo grosso topo che poi è stato ammazzato e buttato nelle fogne. Poi mi diceva prima ci sono stati altri episodi anche domenica scorsa proprio qui in piazza. Sì, domenica scorsa mio nipote che lavorava la mattina ha ucciso un altro. Io ho una bella foto che mi ha mandato e sono rimasta schifata perché comunque non si può. Michele Fanelli brevemente, questo naturalmente non è un bel biglietto da visita per la città di Bari quindi domani ci sarà il sopralluogo di Aquedotto e dell'amministrazione comunale e speriamo possa risolversi il problema nel breve tempo possibile. Assolutamente no, io dico solo questo, il sindaco sta facendo tanto. Bari è diventato un cantiere, però non dimentichiamoci delle cose piccole. Le grandi opere servono a città ma anche il vivele quotidiano è ancora più importante. Quindi pensiamo un po' di più alla città vecchia. Grazie Michele Fanelli, grazie ai nostri ospiti. Alessandra, restituisco la linea allo studio da piazza dell'Odg3 e tutto. Grazie Cristina e grazie ai tuoi ospiti dalle piccole opere che però hanno un ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Ha ragione, ha perfettamente ragione. È il segreto del buon governo, riuscire ad amministrare le cose di una città esattamente come si possono amministrare le cose di una famiglia, di un piccolo nucleo familiare. Ha perfettamente ragione il signor Fanelli quando dice che si deve partire dalle piccole cose. Molto spesso si progettano le grandi opere perché è più facile far quello che debellare i topi, anche se sembra incredibile che nel 2017, in uno spazio tra l'altro frequentatissimo da residenti e turisti, se debbano esserci topi in circolazione, ma vorrei ribadire che non è tanto un problema di biglietto da visita o dei turisti. I residenti di Bari Vecchia, che tra l'altro sono anche abbastanza famosi per il fatto che puliscono molto le strade, cioè tengono alla loro originalità, i residenti di Bari Vecchia hanno il sacrosanto diritto di poter camminare tranquillamente senza essere in base dei topi. E allora, da una missione impossibile, quella di derattizzare almeno il Borgo Antico, parliamo di un'altra missione che sembra impossibile. Stiamo parlando del bando Lampo, di cui ci stiamo occupando in questi giorni, 19 giorni per presentare un'offerta per la realizzazione dell'ospedale di Monopoli. Stiamo parlando di un bando da circa 90 milioni di euro, un'eccellenza con criteri molto particolari. Molte perplessità sono state espresse anche dal Lance, che ha chiesto una proroga dei termini, scadrà il 23 ottobre il bando di gara, perché ovviamente si chiedono come sia possibile formulare un'offerta in soli 17 giorni per un'opera così importante. Devo dire che ho seguito la vicenda attraverso i vostri resoconti, effettivamente lascia molte perplessità e soprattutto i criteri per la realizzazione di un'opera di così grande importanza, non solo in termini quantitativi, ma anche in termini qualitativi, stiamo parlando comunque di un po' l'ospedaliero, dovrebbero avere dei caratteri di maggiore oggettività. Però io in questo momento non sarei in grado di esprimermi se non approfondiamo l'argomento e sicuramente, come avete fatto voi, una questione da approfondire al più presto. C'è però una questione, Domenico, che è un po' assimilabile a molte questioni, è quasi un tormentone che ci sentiamo dire ormai in questi anni. È una corsa contro il tempo? Perché ovviamente entro il 31 dicembre bisogna che ci sia la firma dell'accordo con l'impresa per non perdere questi soldi e allora viene da chiedersi la programmazione dov'è? Siamo sempre in una corsa contro il tempo. Sì, non è tanto questione di programmazione, che non hanno fatto i bandi prima, perché sarebbe bastato rispettare i termini di un capitolato che qualsiasi persona in casa propria riesce a fare, riesce a programmare. Quindi non è soltanto una questione, tra l'altro stiamo parlando di una cosa gravissima, perché stiamo parlando di un ospedale. Quindi un ospedale, tra l'altro, diciamo la verità, che non è che nasce ieri mattina, l'ospedale di Monopoli si parla da tantissimo tempo. Quindi avrebbero potuto sicuramente avere dei tempi più consoni a un normale svolgimento di una gara. Allora, siamo in chiusura di questo spazio, non mi resta che ringraziare il caporedattore di Repubblica Bari, Domenico Castelletta, grazie per essere stato con noi, noi ci fermiamo. Pausa pubblicitaria, torniamo tra poco con altre notizie. Restate con noi. La Corte dei Conti boccia il Comune sotto accusa e rendi conto di bilancio 2014 sotto i riflettori della lotta blanda all'evasione. I topi di Bari Vecchia e il nostro live con i residenti che denunciano il degrado nel borgo antico. La dislessia non è un ostacolo, la vigilia di un grande incontro nazionale sul tema, ne parliamo nel nostro focus con una professionista locale. Il mago delle Ferrari, la nostra intervista a Peter Iurilli, meccanico originario di Castellana, ci racconta come faceva volare i bolidi delle star hollywoodiane. Reccoci ancora qui in diretta per la terza parte del nostro telegiornale, ritorniamo a parlare di sanità del bandolampo per la costruzione dell'ospedale di Monopoli, un bando di 19 giorni per un'opera da oltre 80 milioni di euro. Anche Lancia Bari e Batta ha espresso le sue perplessità chiedendo una proroga dei termini fissati per il 23 ottobre. Sentiamo. Un nuovo ospedale per Monopoli da 98 milioni di euro, un bandolampo con scadenza da appena 20 giorni e i dubbi sulla legittimità avanzati dall'Associazione dei Costruttori. Il fatto, pochi giorni fa l'Asl Bari apre una gara per realizzare un nuovo nosocomio per il sud-est barese, una struttura da 300 posti letto che sostituirà il vecchio San Giacomo. Mancia e Bari Batta solleva la questione, i termini per presentare le offerte sarebbero troppo brevi considerata la complessità dell'appalto. La legge infatti prevede un termine minimo di 35 giorni con la possibilità di riduzione fino a 15 laddove sia stata messa a disposizione degli interessati un avviso di preinformazione. Documento che siamo riusciti a reperire, pubblicato solo sulla gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, ma non sull'albo pretorio dell'azienda sanitaria locale. Alla sezione 1.3 leggiamo i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il portale www.sanita.puglia.it. Inutile dire che sfogliando il portale né di questo né di altri atti simili vi è traccia alcuna. Qui una documentazione peraltro frammentaria viene pubblicata solo 4 mesi dopo, il 4 ottobre, con l'indizione della gara breve anzidetta. Per trovare degli atti più dettagliati bisogna recarsi su un altro portale, Empuglia, mai citato nella preinformativa e su cui comunque non troviamo dopo la pubblicazione della preinformativa le carte materialmente necessarie a un'azienda seria per imbastire un'offerta. Ma non è tutto, solo ieri chiedevamo al direttore generale della SBA Vito Montanaro di conoscere a questo punto le imprese venute in qualche modo in possesso della documentazione in oggetto. Assolutamente no, ci siamo sentiti rispondere, sono atti endoprocedimentali. Eppure proprio sul sito Empuglia troviamo pubblicate aziende, dirigenti e impiegati che hanno chiesto di fare un sopralluogo sull'area interessata dai lavori, in violazione del principio generale di riservatezza che deve sovraintendere a tutte le fasi che precedono lo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica. La domanda allora sorge spontanea, a che gioco si sta giocando con i soldi dei contribuenti? Eletto il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, la lista del Presidente uscente e l'Avvocato Giovanni Stefani, la più suffragata con quasi 2300 voti, seguito da Serena Trigiani il 24 ottobre, la cerimonia di elezione. Sentiamo le interviste al termine della proclamazione dei risultati nella sala convegni dell'Ordine. Con il risultato conseguito possiamo dire che dovrei essere eletto Presidente, anche se tecnicamente questo avverrà nella prima seduta del Consiglio, però la mia squadra ha conseguito una maggioranza significativa che ci fa stare tranquilli da questo punto di vista. Sono state rispettate anche le Puote Rosa? Sì, abbondantemente rispettate. C'è una bella affermazione delle Avvocate, anche se il numero delle Avvocate al voto è stato ancora troppo inferiore a quello degli uomini, però il risultato è incoraggiante. Torna la guida dell'Ordine, finora commissariato. Innanzitutto un plauso al Commissario, l'Avvocato Giorgino, per il lavoro svolto. Non facile lavoro perché dopo quel risultato e dopo un foro che aveva espresso quella larga maggioranza e quel grande consenso alla mia persona, non era facile. Lui è riuscito molto bene a fare il suo lavoro. Adesso riprendiamo però le redini, ma nel senso che gli Avvocati Barresti finalmente potranno avere la loro rappresentanza naturale, come lo stesso Commissario ha dichiarato in varie occasioni. Quali le priorità? Senza dubbio la questione dell'edilizia giudiziaria, uno dei suoi cavalli di battaglia. All'Ordine del Giorno del Consiglio ci sarà certamente l'edilizia giudiziaria, che mi auguro a pro di quanto prima di una soluzione che è quella dell'accorpamento degli uffici. Noi certamente ci faremo sentire con la politica e con le altre istituzioni perché Bari, ma il circondario di Bari, abbia una sede giudiziaria adeguata ed efficiente. E allora siamo alla nostra rubrica dedicata al Mondo Ancia, l'Associazione dei Costruttori Edili. Oggi si fa il punto sui lavori pubblici a Bari. Sentiamo l'intervista al Presidente di Ance Bari e Bat, Beppe Fragasso, intervistato da Ilaria Del Vino. Buonasera, bentornati con la nostra rubrica dedicata all'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Sono in compagnia del Presidente dell'Ance Bari e Bat, l'architetto Beppe Fragasso. Benvenuto, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Vogliamo parlare di progetti di riqualificazione urbana. In che modo Ance contribuisce a questo tipo di idee, di progetti di riqualificazione? Ance nell'ambito del pattenariato economico-sociale che si rapporta alle pubbliche amministrazioni ad alcuni anni diversi protocolli di collaborazione con dei comuni. In particolare, ve li cito, sono Biceglie, Barletta, Andrea, Trani, Bari, Canosa, Valenzano e Adelfia. Con tutti loro noi abbiamo contribuito a formulare delle proposte di rigenerazione urbana che hanno trovato accoglimento in gran parte già, altre sono in questo momento a bando, hanno trovato accoglimento nei finanziamenti pubblici. La scelta di Ance di collaborare è perché in questo modo si dà una mano agli uffici tecnici comunali che molto spesso non hanno risorse per poter partecipare ai bandi o hanno difficoltà in tempi brevi a poter produrre per la partecipazione ai bandi, con l'unico scopo di creare lavoro sul nostro territorio. Che poi questo lavoro vada a finire alle imprese del Lancio, vada a finire anche a imprese non associate al Lancio, come molto spesso, ahimè, succede, pensiamo di aver comunque dato un contributo al nostro territorio. Abbiamo parlato di questa sinergia con l'Ace e con l'amministrazione, vogliamo capire allora a che punto sono i lavori pubblici? È un momento di grossa difficoltà nei lavori pubblici perché il nuovo codice degli appalti ha fortemente penalizzato il sistema dei lavori pubblici, le amministrazioni sono impaurite nell'emettere bandi perché ci sono molte difficoltà per poter recuperare questi lavori. In più, dicasi che ci sono anche alcune difficoltà con la Regione, perché la Regione è depositaria dei fondi europei, questi fondi europei devono essere rendicontati, non è stata ancora completata la rendicontazione dei precedenti fondi. Speriamo, abbiamo avuto assicurazioni in questi giorni dall'architetto Curcuruto, assessore dei lavori pubblici, che questi fondi saranno a breve sbloccati. Pertanto riteniamo che i lavori pubblici siano un po' l'asse portante del nostro mestiere e auspichiamo che al più presto vengano sbloccati fondi importanti. Di questo torniamo a parlare nel corso delle prossime puntate, ringrazio il Presidente di Ance e Bariebatte, l'architetto Beppe Fragasso per essere stato con noi, vi do appuntamento a domani, una buona serata. Buonasera a tutti voi. Bene, noi ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, tra poco parleremo della dislessia, la dislessia dei bambini che non è più un ostacolo, lo faremo con Sabina Di Giacomo, formatrice pedagogista familiare, a tra poco. Un saluto a tutti da Edoardo Ferrara, di Trebi Meteo. La giornata di giovedì vedrà un potente campo anticiclonico, inglobare gran parte del vecchio continente, vedete l'alta pressione che terrà lontane le perturbazioni atlantiche, costrette a scorrere a latitudini settentrionali. Per quanto riguarda la copertura nuvolosa, vedete cieli in gran parte e sgombi da nubi anche sulla nostra penisola, con al più qualche nuvolamento tra Liguria di Levante e Toscana, ma senza particolari conseguenze. Il dettaglio delle piogge ci mostra assenza di precipitazioni significative su gran parte del Mediterraneo, sono un giusto qualche nota instabile all'estremo sud, ma davvero di poco conto. Entriamo dunque nel dettaglio previsionale, con una giornata sostanzialmente soleggiata su gran parte della penisola, un po' di nuvolosità a tratti consistenti tra Liguria di Levante e Toscana e Umbria, ma assolutamente senza rischio di precipitazioni. Temperature in ulteriore aumento soprattutto nelle aree soleggiate, ben oltre le medie del periodo. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale sull'app gratuita di Trebi Meteo. La dislessia non è più un ostacolo Eccoci ancora qui in diretta per il nostro focus, abbiamo titolato La dislessia non è più un ostacolo, lo scopriamo insieme alla dottoressa Sabina Di Giacomo, formatrice e pedagogista familiare. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitata. Intanto l'occasione ce la offre anche un convegno che si terrà, un convegno nazionale che si terrà a Roma una tre giorni sulla dislessia. L'approccio quale deve essere? Non bisogna più parlare di diritto allo studio ma di diritto all'apprendimento. Allora noi vogliamo, infatti, noi vogliamo portare avanti questo messaggio come AMPEF, Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, che io in questo momento rappresento qui in Puglia. L'associazione, dico solo questo, nasce nel 2010 grazie proprio alla volontà di portare avanti questo discorso, quest'innovazione per quanto riguarda la dislessia, da parte del fondatore, appunto la professoressa Vincenza Palmieri. Lei che cosa propone? Propone di parlare oggi di diritto all'apprendimento. Che cosa vuol dire? Che oggi non basta più garantire l'istruzione che, grazie a Dio, siamo riusciti a garantire, ma dobbiamo garantire anche che i nostri ragazzi, una volta finita la scuola, riescano a trasformare in competenze i saperi che apprendono. Quindi l'apprendimento vuol dire proprio accesso al sapere. Molte volte questo accesso al sapere perché viene negato? Viene negato perché quando ci troviamo di fronte a un ragazzo che si scopre dislessico, il diritto all'apprendimento può essere negato, perché vengono messe in atto una serie di procedure che portano ad etichettare il ragazzo come problematico. In realtà non si capisce che... Non andando all'isolamento, no? Esatto, perché poi si provvede così, si fanno questi piani didattici personalizzati che non inseriscono il ragazzo nella classe, ma tendono ad escluderlo in quanto si prevede con il piano didattico personalizzato che questo ragazzo in qualche modo segua un percorso che è un po' diverso da quello degli altri compagni. Quindi che cosa succede? Che a livello psicologico questo ragazzo si sente comunque stigmatizzato, diverso dagli altri. Quando invece poi scopriamo che la dislessia è un diverso modo di apprendere, quindi noi che cosa proponiamo? Noi proponiamo di lavorare proprio dal punto di vista della ricerca di metodologie didattiche appropriate per accogliere all'interno della scuola tutte le diverse intelligenze, perché oggi non possiamo più parlare di intelligenza, ma dobbiamo parlare di diverse intelligenze. Una metodologia didattica che in qualche modo scalzi la via della diagnosi, che tra l'altro è andata sempre più aumentando, soprattutto negli ultimi anni, siamo passati dal 2010 da un 0,7% a un 2,5% in 5 anni. Insomma è un regio importante, significa che queste diagnosi si fanno con eccessiva facilità? Sì, perché si fanno con facilità, perché molto spesso i genitori si sentono allarmati, perché molto spesso non viene spiegato ai genitori che la dislessia non è una malattia, ma è semplicemente una difficoltà così definita di apprendimento. Allora che cosa succede? Che la legge stessa che riconosce la dislessia recita che la dislessia non è una malattia e che non prevede quindi la presenza di un deficit cognitivo e che bisognerebbe provvedere alla dislessia con metodologie didattiche mirate ed adeguate. Però di fatto poi nessuno lo fa, si preferisce fare la diagnosi e cercare di avviare il ragazzo verso questo percorso che molte volte lo isola dal resto della classe, con il piano didattico personalizzato. Noi invece stiamo lavorando sulla didattica, quindi su una didattica efficace che possa quindi mettere in pratica anche delle metodologie creative. Quindi non escludiamo, che ne so, l'utilizzo delle mappe pittografiche, l'utilizzo della plastilina. Non escludiamo una serie di cose che possono divertire i ragazzi e che possono metterli in condizione di riuscire con le diverse intelligenze. Insomma, come dire, è un nuovo approccio per il diritto allo studio, un nuovo approccio di apprendimento. Esatto. Dobbiamo però spiegare innanzitutto che cos'è la dislessia, come si manifesta, no? Beh, in realtà la dislessia è una difficoltà di apprendimento, quindi vuol dire che le persone dislessiche hanno, diciamo, delle modalità diverse di acquisire informazioni dall'ambiente esterno. Quindi la dislessia si può manifestare in forma lieve, con una difficoltà di lettura, per esempio. Quindi la persona dislessica ha più difficoltà a trasformare, per esempio, il grafema in fonema, quindi nella lettura noi abbiamo questa trasformazione e magari si può provvedere a far memorizzare le lettere a questi bambini utilizzando magari, che ne so, la plastilina, quindi fargliele costruire con la plastilina queste lettere in modo tale che vengano assorbite proprio come esperienza, perché il dislessico ha bisogno di fare esperienza delle cose. Quindi il suo apprendimento è un apprendimento di tipo diretto, non è che non apprende, però apprende con modalità diverse. Molte volte la dislessia può essere accompagnata alla disgrafia, cioè la difficoltà di scrivere, ma questa difficoltà noi la troviamo nei nativi digitali che comunque hanno sviluppato proprio una muscolatura diversa della mano. Quindi noi ci potremmo trovare di fronte a bambini disgrafici. Oppure ancora possiamo trovare la discalculia, cioè la difficoltà di riconoscere i numeri. Però tutte queste cose si possono risolvere con la creatività. E tra l'altro il messaggio che dobbiamo far passare è che dislessia non significa un deficit di intelligenza. Non è un deficit cognitivo, perché molte volte i dislessici hanno un quotiente intellettivo più alto della media. E quindi noi dobbiamo dare a questi ragazzi la possibilità di essere accolti e non dobbiamo disperdere risorse umane, perché il problema è questo. Questi ragazzi intelligentissimi, non trovandosi accolti nella maniera adeguata, tendono poi a lasciare la scuola o a non andare all'università. E questo non è giusto, perché se capita ciò vuol dire che c'è un fallimento. Tra l'altro bisogna pensare anche ai risvolti, diciamo, meno belli di questo tipo di patologia. Immaginiamo un bambino condizionato a risonamento, immaginiamo anche l'effetto dei bulli. Non parliamo di patologia però. No, di patologia, insomma, come la dobbiamo definire? Sì, è vero. È una sindrome? No, semplicemente noi diciamo difficoltà, noi adesso diciamo diverso modo di apprendere, perché purtroppo è questo, la dislessia è un modo diverso di apprendere. Cioè noi in una scuola standard registriamo questo fenomeno, ma in una scuola nuova, con una metodologia più creativa, noi potremmo anche non registrarla in realtà. E poi c'è anche da dire che noi pretendiamo dai nostri ragazzi un tempo veloce, oggi siamo diventati più veloci, in realtà i ragazzi hanno bisogno del loro tempo e ognuno avrà un tempo diverso dall'altro. Quindi è come se noi adulti dovremmo fare un passo indietro, frenare, e dare, restituire ai bambini la possibilità di fare le cose a modo loro. Insomma, il tempo che in questo momento diciamo anche che è un lusso. C'è anche molto allarmismo da parte dei genitori, probabilmente perché subiscono anche queste informazioni. Come bisogna comportarsi? Innanzitutto la cosa che stiamo facendo noi come pedagogisti familiari è costruire di nuovo il ponte che si è un po' fratturato tra la famiglia e la scuola, tant'è che diciamo pedagogia familiare proprio perché vogliamo unire, cioè noi vogliamo unire le questioni pedagogiche anche alle questioni diciamo scolastiche, quindi dobbiamo legare. Quindi i genitori devono essere informatici, deve essere collaborazione tra la scuola e la famiglia e naturalmente anche quando il genitore magari si presenta con un allarmismo è giusto che la scuola in qualche modo freni il genitore, perché molte volte sono gli stessi genitori che esagerano e quindi bisogna istruire anche loro se vogliamo, quindi creare dei percorsi per i genitori, per poter aiutare i figli nei compiti. Noi lo stiamo facendo, stiamo cercando di fare tutto questo ed è proprio questo che tratteremo a Roma il 26 ottobre. Proprio il 26 ottobre a Roma, come dire, si chiuderà un po' la quadra, no? Si approfondirà questo tema. Come Associazione Nazionale Pedagogisti Familiari, qual è la proposta che insomma vorreste venire a provare? Allora noi vorremmo innanzitutto, quello che stiamo facendo, è parlare sempre più di diritto all'apprendimento, quindi di accesso al sapere. Infatti il convegno si intitolerà proprio dal diritto allo studio al diritto all'apprendimento. e poi dopo vogliamo, ci saranno due laboratori di didattica e quindi daremo proprio dimostrazione di quelle che sono le metodologie che abbiamo messo a punto in questi anni di studio e di ricerca e quindi io sono coinvolta in questo. Quindi noi prevediamo anche dei corsi per la formazione dei docenti, naturalmente, che si vogliono avvicinare e poi vogliamo fare una cosa importante, quello che stanno già facendo, quello che sta facendo la dottoressa Palmieri, cioè far rivedere l'articolo 3 della legge 170 del 2010. L'articolo 3 dice che solo dopo un intervento mirato di didattica efficace è possibile diagnosticare. Quindi noi vorremmo che questo articolo venisse messo in risalto e che si facesse così. Prima aiuto il bambino con la pedagogia e con la didattica e poi magari se non riesco a risolvere il problema passo al discorso diagnostico. Invece adesso il discorso diagnostico viene anticipato. Quindi vogliamo fare il punto della situazione anche su questo articolo 3 per evitare che i ragazzi vengano esclusi da un percorso scolastico che consenta loro di essere accolti e sentirsi gratificati. Allora, siamo in chiusura. Ovviamente è un grande in bocca al lupo per questo lavoro che coinvolge non soltanto le scuole, mi sembra di capire, ma anche le famiglie, insomma tutti gli autori coinvolti su questo tema. a partecipare perché è gratuita la partecipazione e noi abbiamo piacere perché io voglio portare questo messaggio sul mio territorio perché qui ci sono tanti casi e quindi mi piacerebbe che partecipassero in tanti e si possono rivolgere all'associazione per aderire e partecipare presidi, insegnanti, tutti quelli che vogliono venirci a trovare a Roma. Noi siamo disponibili. I primi segnali di allarme intorno a quale fascia di casi dovrebbero presentare? Allora, direi che è meglio non parlare di questo. Io preferirei non parlare dei segnali di allarme, ma di... Perché metterebbero ovviamente più allarme gli autori, no? Esatto. Io invece direi di non parlare più, ma di cercare di conoscere i propri figli, di passare un po' di tempo con i propri figli e di aiutarli, magari in maniera creativa. Anche perché mi piace, diciamo, ricordare questa frase di Einstein che diceva che la creatività non è altro che intelligenza che si diverte. Quindi io credo che i bambini si debbano divertire, devono quindi imparare giocando e quindi i genitori, anziché allarmarsi, devono giocare con i figli in maniera consapevole. Esatto. Quindi non voglio parlare di allarmismo. Allora, grazie Sabina Di Giacomo, formatice e pedagogista familiare. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, come sempre, per averci seguito. L'appuntamento torna più tardi. Arrivederci. Grazie a tutti.